Allo stato attuale i programmi che, chiamiamolo così per capirci, centro-sinistra cosoliniano propone, non sono i nostri programmi. La posizione della federazione della sinistra, decisamente critica nei confronti di chi oggi guida il paese e istituzioni locali, è stata espressa stamane nel corso di una conferenza stampa. Si è arrivati a un stacco notevole tra noi e il resto della coalizione che sostiene Cosolini. Una sonora bocciatura quindi, che ipoteca pesantemente le scelte della federazione della sinistra alle elezioni amministrative della prossima primavera. E in vista di questo appuntamento è stato deciso di rompere gli indugi, iniziando a discutere innanzitutto di programmi, in un primo incontro che si terrà a giovenire di 9 ottobre presso la sede di Via Tarabocchia 3. Che sia la destra fare una politica di destra o chi si dichiara centro-sinistra fare una politica di destra, non è questo il nostro obiettivo. Noi vorremmo una sinistra o un centro-sinistra che faccia delle politiche di sinistra. Ridurre i diritti dei lavoratori non ci sembra una politica di sinistra. Non garantire assunzioni al Comune per riprendere i lavori oggi esternalizzati a ditte non ci sembra una politica di sinistra. È già da tempo che Renzi non parla più un linguaggio di sinistra e dopo il job act penso la storia parli da sé. E anche sull'ipotesi di nuovo assetto istituzionale della regione la posizione è critica. Si parla di cambiare anche l'architettura istituzionale, si è già cambiato con l'Uti, ora si parla di città metropolitana, vengono fatte varie proposte sulla testa della gente, proposte tutte però che taglieranno in maniera pesante la partecipazione democratica dei cittadini. E quindi le scelte fondamentali nel campo della vita delle persone sarà messa in mano di pochi eletti o nominati. Ecco, se questa è democrazia non lo so.